In una terra lontana, nel cuore dell'Africa, un giovane falco decide di lasciare il nido per andarsene in città. Egipter, atterrarlo fuori in casa! Un paradiso per ogni tipo di pennuto. Attento alle mie uova, Neville! Guarda dove vai, questa zona è interdetta al volo! Eh, scusi. Benvenuto a Zambezia, la famosa città degli uccelli! Ehi, che forte! Che cosa ti ha portato a Zambezia? Stavo pensando di unirmi ai cicloni. I cicloni pattugliano i cieli e tengono i pericoli lontani da Zambezia. Sono stupendi. So riconoscere il talento quando lo vedo. Invasione di marabù! Sopravvivere non è un problema, solo degli uccelli. E quante uova può mangiare una lucertola? Ti ho preso! In una città piuttosto per aria, Kai deve preparare un piano. Chi riporti la pace? Se ne stiamo uniti, possiamo ancora farcela! Siete con me! Benvenuti in un mondo meraviglioso. Oggi possiamo finalmente affermare che nessun uccello resterà da solo! Benvenuti a Zambezia. Qualcuno grandisce uno snack!